Ciao Bowboys, sono Claudia Taccani, la vostra esperta legale dei diritti degli animali. Allora, oggi parliamo di un argomento molto importante e purtroppo noto, ahimè, l'avvelenamento, l'avvelenamento degli animali. Perché vi spieghiamo questo? Spesso volentieri riceviamo email, presso la redazione di Bowboys, ma come anche del resto molte associazioni animaliste e portiamo, possiamo leggere anche facilmente sui social network, di avvelenamenti o tentati avvelenamenti nei confronti dei cani, nei parchi o nelle aree cani. Parlo di cani ma in realtà possiamo parlare anche di gatti, oltre ad altri animali domestici che abbiamo la possibilità di portarci con noi all'esterno, quindi fuori casa. Allora, il problema, per semplificare, possiamo chiamarlo delle polpette avvelenate. Che cosa fare se ci troviamo in un parco o in una cani e siamo testimoni diretti o anche magari indiretti di un tentato avvelenamento, quindi se un cani inizia a stare male per un boccone avvelenato. La cosa ovviamente più importante è quella di soccorrere l'animale e fare in modo che l'animale venga ovviamente portato presso la clinica veterinaria più vicina. Fatto questo adempimento concreto, passando invece al consiglio legale, è quello comunque di segnalare subito la presenza di questo boccone avvelenato all'autorità competente, quindi chiamare subito la polizia, dovrebbe intervenire la polizia locale che comunque è competente in caso di questo tipo e fare presente che c'è questo boccone avvelenato perché comunque lo stesso può essere pericoloso, non soltanto per i cani, ma comunque anche per le persone. Proviamo infatti meglio immaginarci se un bambino dovesse inadvertitamente avvicinarsi per questo boccone e comunque tirare su lo stesso. Insomma, ci può essere comunque un pericolo anche per la incolumità pubblica, quindi bisogna sottolineare questo problema. Fare in modo pertanto che esca subito qualcuno, il consiglio ovviamente stando molto attenti è quello, se ci troviamo durante l'ora notturna comunque magari non può arrivare direttamente qualcuno, è di prelevare il campione, trattenere almeno una parte per poterlo fare esaminare e comunque fare una denuncia anche se a carico degli otti, bisogna infatti segnalare che sono stati somministrati dei boccone avvelenati o comunque una sostanza avvelenosa non autorizzata all'interno di un'area canico o comunque all'interno di un patto o, vi ripeto, per le strade. Quindi l'importante è quello di segnalarlo. Che cosa possiamo dire sempre per quanto riguarda la legge? Abbiamo già parlato in passato del maltrattamento e sappiamo bene che la nostra legge per fortuna comunque condanna anche l'uccisione di un animale con pene severe. Allora tenete presente che questo delitto può anche soltanto essere tentato, quindi se per caso un cane inadvertitamente tira su un buccone avvelenato e per fortuna non muore ma viene salvato, lo stesso comunque ha rischiato la morte. Pertanto si può fare una denuncia anche soltanto per il tentativo di uccisione di un animale. Non è da sottovalutare questo problema. Altro consiglio che posso dare pratico al di là di quello legale è, mi raccomando, senza seminare il panico ovviamente far sapere ad altre persone che frequentano la zona o comunque frequentano quell'area cani che c'è questo problema e pertanto mettere eventualmente un annuncio o fare anche una segnalazione online. Mi ripeto, pretendere e richiedere che ci sia l'intervento della forza pubblica perché venga pulita la zona e perché vengono fatti i controlli più importanti. Con questo ho terminato, mi raccomando se avete degli ulteriori dubbi su questo argomento o su eventuali altri problemi legati agli diritti degli animali, contattateci pure alla email espertichiocciolabowboys.tv Con questo vi saluto e alla prossima, ciao!